Io sciopero per una scuola a misura di studente, meno unitaria e più partecipata. Io manifesto perché non voglio una vita da precario, voglio uno stato con i tuteli e voglio poter programmare la mia vita. Io il 14 novembre manifesto perché voglio avere una scuola sicura e a norma. Io sciopero per la liberalizzazione del sapere, perché la scuola sia accessibile a tutti, sia pubblica e gratuita. Contro la finanza all'interno della scuola. Io manifesto per degli stage regolamentati, di livello, che possano accrescere le mie capacità lavorative. Io manifesto perché voglio una scuola che torni a leggere la nostra Costituzione, formando cittadini critici e consapevoli. Vieni anche tu a manifestare per i tuoi diritti e il tuo futuro. La buona scuola siamo noi!